La società cooperativa consortile Radiotaxi Veneto aggrega attualmente 13 cooperative radiotaxi, associando complessivamente 750 taxi, che comprendono anche i taxi acquei di Venezia, ed istituisce il numero unico telefonico taxi della regione Veneto. Il numero, breve e senza prefisso, è messo a disposizione dell'utente che si trova nel territorio regionale ed attraverso il quale viene collegato automaticamente al call center e quindi al servizio taxi più vicino. A questo progetto nel corso del 2011 si è aggiunto il servizio SMS taxi, che consente agli utenti audiolesi di poter utilizzare il servizio taxi in totale autonomia. Fare rete in tempi di crisi è un'esigenza sempre più sentita. Qual è la caratteristica del consorzio taxi Veneto? Radiotaxi Veneto nasce nel 2006 proprio sull'idea di fare rete e fare squadra, cioè di mettere a disposizione dell'utente un unico numero telefonico per accedere al servizio taxi nella regione Veneto. Questo dal punto di vista dell'utente, perché l'idea sostanziale ruota attorno all'utente al centro del sistema, è quello di consentirli una semplificazione dell'accesso al servizio. Non più infinite ricerche in internet, sugli elenchi telefonici, sui centri di informazione di quale sia il numero del taxi nella località in cui si trova, ma un unico numero per tutto il Veneto e per ogni località. Questo è l'idea aggregante e fondamentale per la quale è nato il numero unico. Da questa idea aggregante e fondamentale nasce cosa? La standardizzazione del servizio a tutti i livelli e mi spiego. I taxi nel Veneto sono i taxi del numero 199 che hanno tutte le caratteristiche di legge e di norme regolamentari per rispecchiare il ruolo di servizio pubblico ad integrazione nel trasporto pubblico locale che è la nostra mission e il nostro scopo fondamentale. I taxi del Veneto sono i taxi che accettano la carta di credito, i taxi del Veneto sono i taxi che svolgono i servizi integrativi e sociali con tariffe particolari dedicate a categoria specifica di utenza, anziane, il taxi rosa per le signore sole, il taxi mamma, tariffe a integrazione del TPL, tariffe dai per gli ospedali, trasporto disabili. Il servizio taxi è uniformato nel Veneto sia a livello di autovetture che anche a livello di motoscaffi con il recente ingresso, l'anno scorso 2011, anche del servizio taxi acqua della città di Venezia. Ma non solo, abbiamo instaurato anche un numero SMS unico regionale per consentire l'accesso al servizio anche agli utenti audiolesi che hanno difficoltà a relazionarsi con i nostri centralini, avevano difficoltà a relazionarsi con i nostri centralini. Sin d'ora è possibile immaginare un futuro nei trasporti pubblici che porterà sicuro vantaggio al cittadino, sia esso cliente abituale o turista, in linea con i decreti europei che tendono verso il miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.